Ecco a voi la GBG6 e la GBG8 Professional Bosch, le robuste e potenti sverigliatrici da banco per l'artigianato e l'industria. La GBG6 è un utensile da officina potente e maneggevole. La GBG8 è particolarmente robusta e potente, garantisce un rapido avanzamento del lavoro grazie al motore ad induzione a bassa rumorosità e a basse vibrazioni, nonché al cuscinetto a sfera incapsulato, garantiscono entrambe una lunga durata. Il supporto per i pezzi in lavorazione regolabile senza l'uso di attrezzi semplifica la lavorazione, gli ampi vetri proteggono gli occhi dalle scintille durante il lavoro. Lasciatevi convincere dal GBG6 e dal GBG8 Professional Bosch, le robuste e potenti sverigliatrici da banco per l'artigianato e l'industria.